La prossima amministrazione di Casal Maggiore, chiunque ne sarà la guida, dovrà avere, tra le cose da fare, una priorità, la tangenziale. 4.000 mezzi pesanti al giorno che intersecano il traffico cittadino, una situazione non più procrastinabile. Il Movimento 5 Stelle di Casal Maggiore, assieme a Vivace e Sostenibile con la consigliera comunale Anna Maria Piccinelli, si sono pronunciati con un documento che non solo chiede a gran voce che tutti i referenti, a qualunque livello, abbiano a che fare con la politica, si muovano in questa direzione, ma che nel frattempo promuove percorsi alternativi per alleggerire il flusso in città. Il sindaco e il prefetto possono fare qualcosa in più, spiegano gli interessati. Sicurezza e tutela della salute, secondo le forze d'opposizione, sono già elementi che consentirebbero un intervento, in attesa di reperire i fondi necessari alla tangenziale tra tutti i soggetti coinvolti. Il sindaco può agire, infatti, per la tutela della salute. I profili salute dei residenti di Casal Maggiore pubblicati da TS segnano un peggioramento tra il 2019 e il 2021, e ora possiamo aggiungere anche il 2022. Quanto alla qualità dell'aria, abbiamo installato, spiegano dal Movimento 5 Stelle e dal Vivace Sostenibile, nostre centraline che hanno registrato costanti superamenti dei livelli di polveri sottili. Dunque è fondamentale che il sindaco pretenda rilevamenti ufficiali sulla Solana. Il Movimento 5 Stelle e dal Vivace Sostenibile, dopo tre anni di pressione continua sul tema tangenziale, chiudono il 2023 con un nuovo contributo alla questione, tre possibili percorsi oltre a quello attuale, sui quali ridistribuire il traffico pesante. Nessuno, precisano, attraversa centri abitati, ad eccezione della frazione Dossi di Sabioneta. Il primo collega piadena a Sabioneta via Rivarolo-Mantovano, il secondo via Bozzoli, il terzo via Campitello. Sono tutti sicuramente più lunghi del percorso tradizionale. Due di loro hanno alcune scomodità costituite dai passaggi a livello. Tuttavia, come mostra la tabella, non ci sono allungamenti particolarmente gravosi. Il passaggio a livello più insidioso è quello di San Giovanni in Croce, dove nelle fasce orarie interessate passano 34 treni, ma sono in gran parte concentrati tra il minuto 48 e 58 di ogni ora, quindi ovviabili con una buona organizzazione. L'altro passaggio è quello di Bozzolo, più problematico a causa dei treni merci che non sono prevedibili in quanto servizio privato, ma in cui comunque le code non insisterebbero sul centro abitato. Grazie a tutti.